...grandissimo giocatore, l'ho visto l'altro giorno con la Svezia, no scusate, con la Danimarca irritante, appogliando tutto quello che si era da sbagliare, guarda per la due parte l'azione, palla persa da l'altra parte, due difensori, cioè due difensori sono troppo pochi, poi sull'esterno la grande cavalcata, Danimarca la mette di prima, fantastico, e Cristiano Ronaldo che può, inoltre a tirare, rientra, la piazza, bravo, 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 bravo. E allora, ancora un regalo per chi ovviamente ama il calcio, questa rete di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo questa sera veramente entusiasmante, questo regalo di Cristiano Ronaldo. Don't face Niente Don't face Niente 0 punti e c'è qualcosa che non può avvenire Olanda che...